Il ventro della villa, la maternità culturale di un'arte, è un'esposizione che è stata realizzata grazie al contributo significativo e all'iniziativa della Camera di Commercio di Verona e che vede un raggruppamento di 11 aziende artigiane, restauratori del mobile e degli interni in collaborazione con l'Istituto Regionale Ville Venete. È un'iniziativa che vuole riportare alle origini gli artigiani che nascono come aggiustatori, restauratori e poi riproduttori di mobili e che adesso, dopo un percorso di decenni, hanno acquisito abilità tecniche e capacità di analisi tali per cui possono confrontarsi anche con la loro, tra virgolette, matrice culturale, il ventre delle ville, cioè gli interni da cui loro sono partiti nella riproduzione di questi oggetti, arrivando ad essere a tutti gli effetti coloro i quali possono per gli interni essere restauratori, cioè fare la manutenzione, manutenere, tenere in mano, accudire il ventre da cui sono nati. Fondamentalmente questo binomio è teso anche a lavorare su un altro ordine di livello, ha un altro obiettivo che è quello di proporre dei contenuti per le ville che sono state coinvolte, ma le ville venete in senso generale, uno straordinario patrimonio che però rischia di essere portato alla museificazione di se stesso.